Ciao a tutti ragazzi, oggi vi faremo vedere un nuovo video, molto divertente. Beh, vi siete mai chiesti se in Minecraft ci fosse il famosissimo domatore di cinghiali? Quell'uomo di pelle scura che va a cavalcare i cinghiali nel gioco di Clash Royale e Clash of Clans? Beh, vi devo dire una cosa, in Minecraft questo grande personaggio famoso c'è, beh, lo è diventato più che altro, perché? Allora, mi sono spawnato in questo mondo, ho trovato un villaggio, poi ho messo un villico qui dentro una grotta, perché qui c'è una grotta se infatti c'è un villico, poi praticamente è un maiale, per sbaglio, no, poi è un maiale centrato e c'era anche un mini zombie. A un certo punto il mini zombie si è messo a groppa sopra il maiale e così è diventato il domatore di cinghiali. Infatti, mi sembra che, sì, lo domina, mi sembra. Quando vuole però, se non fa niente invece è il maiale, guarda dove vuole lui, invece tipo per rincorrere un villico anche il maiale va. Cioè, non so bene come fa, però è sopra il maiale, come potete vedere, è una cosa molto bizzarra, beh, un po' strano, un po', molto strano, perché di solito vanno sulle galline. Forse si è buggato, forse, non lo so ragazzi, beh, ci vediamo alla prossima puntata, spero che il video vi è piaciuto. Grazie.